Spazio ora al Presidente della Provincia di Brescia, Daniele Molgora. Daniele Molgora, Presidente della Provincia di Brescia, un importante accordo per l'aeroporto di Montichiari. Che cosa avete ottenuto? Innanzitutto l'operatività dell'aeroporto che si baserà sul trasporto merci, quindi Montichiari diventerà principalmente un aeroporto cargo, senza che per questo escludere la parte passeggeri, ma attualmente il trasporto cargo è quello sicuramente più remunerativo e che dà più possibilità di sviluppo proprio perché manca in Italia un aeroporto destinato al cargo. La prima compagnia che si baserà su Montichiari è una compagnia che ha sede legale in Vietnam ma che consentirà i collegamenti dall'Europa all'Australia, all'Asia e anche in America e questo determinerà quindi la possibilità da parte non solo delle imprese bresciane del territorio ma di tutta la Padania di potersi collegare con il resto del mondo. Noi oggi consideriamo il fatto che abbiamo oltre 600.000 tonnellate che sono cosiddette aviocamionate, cioè vengono caricate sui camion, peccato che gli aerei che li trasportano in altri paesi o continenti non partono dai nostri aeroporti ma partono da Monaco di Baviera o da Francoforte. L'obiettivo è proprio di intercettare questo traffico delle nostre imprese affinché questo servizio venga fatto su nostro territorio. Quindi ricaduta sotto aspetti degli utili derivanti da questo servizio di trasporto ma anche il vantaggio di avere posti di lavoro assolutamente nuovi perché consideriamo che ogni 100.000 tonnellate si tratta di creare o di determinare 600 nuovi posti di lavoro quindi significa che ci sono molte potenzialità su questo terreno. L'accordo con la società Catullo ha portato questa prima compagnia ma ne arriveranno altre su questo tema e quindi ci sarà la possibilità di ingrandire ulteriormente il traffico di Montichiari e farla diventare uno dei primi due aeroporti in Italia per quanto riguarda il cargo.